Buongiorno, i veri vlogmas dovrebbero iniziare il primo di dicembre avete ragione, ma oggi in realtà siamo a giovedì 30 novembre, il giorno prima, ultimo giorno di novembre e inizio a registrare perché io in realtà oggi sono in festa dal lavoro, causa maltempo, uno dei due negozi l'hanno tenuto chiuso e quindi ho vinto una giornata libera, cosa che non mi dispiace affatto, nonostante appunto ci sia un tempaccio fuori, faccia freddo eccetera perché in realtà devo fare alcune commissioni che lunedì ho deciso di non fare, in realtà lunedì non ho registrato nulla perché ne ho voluto proprio approfittare per rilassarmi, specialmente il pomeriggio, ho stato tutto il tempo sul divano a guardarmi Netflix che ho riattivato ecco per questo periodo delle feste in modo tale che se c'è qualche cosa che mi interessa o magari quella sera lì non ho tanta voglia di leggere subito, mi guardo un film eccetera, poi volevo rifare la maratona di Frienza quindi vabbè, e quindi sono stata tutto il giorno sul divano senza fare niente e oggi ne volevo approfittare per fare un paio di commissioni come già vi dicevo ho da acquistare le luci per l'albero di Natale, quindi oggi pomeriggio vorrei approfittare e andarle a prendere e vorrei anche iniziare da un lato, fare il terzo loco che devo fare in casa per il discorso dell'albero, cioè in realtà più che altro per quanto riguarda lo spazio in cui lo faccio, perché io solitamente lo faccio in questo spazio qua devo ovviamente spostare il televisore dall'altro lato e devo spostare leggermente il mobile perché Serena lo fai lì perché l'albero non mi ci sta da nessun'altra parte perché è alto 2 metri e 10, è molto grande e non potevi prenderti un albero più piccolo? No, perché lo volevo grande inizialmente avevo pensato di spostare la scrivania e fare l'albero lì e mettere la scrivania qua ma a parte che 1 non ci starebbe, 2 sarebbe un lavoraccio immenso perché comunque pesano le cose da spostare cioè non è che dite vabbè è una scrivania leggera, la cassettiera all'altra parte, cose... no facciamo che se mi devo complicare la vita sposto leggermente più il mobile della tv, sposto la tv fine fatto è meno sbattimento, quindi in programma c'è quello ora volevo mettermi a finire di leggere le ultime pagine del libro che ho attualmente in lettura che è questo, ho deciso, ecco ogni tanto, magari a inizio mese, specialmente quando ne arrivo dai libri di Tilly ho bisogno un attimo di un qualche cosa che sia un pochettino più leggero questo è forse un filo troppo leggero e ho provato un'antipatia per la protagonista allucinante mi mancano in realtà le ultime 20 pagine più o meno perché ieri sera volevo finirle ma mi sono addormentata sul divano mi sono svegliata stanotte alle 4, ho guardato l'ora, ho detto, sai che c'è, vado a letto e tra l'altro mi sono andata con la luce accesa, quindi ero proprio bollita e quindi vorrei finirmi di leggere lui e poi ho preso un libro, mi piacerebbe prenderne altri, un po' ambientato durante il periodo di Natale questo è un romanzo che si chiama La malizia del vischio a quanto ho capito è il ritrovo di una famiglia per una cena natalizia e quindi diciamo un po' parenti serpenti vediamo un pochettino com'è domenica sono passata in un negozio di cinesi che c'è in zona Ikea e ho preso questa decorazione da mettere fuori dalla porta di casa e ha poi la particolarità di avere il vischio, delle palline, le pigne e questo fiocchetto dai, diciamo che in linea generale mi piace molto come stile si avvicina un po' a quello che è il mio stile anche in casa diciamo che ecco, sicuramente forse le palline rosse non sono totalmente nel mio mood però mi sono detto, per metterlo fuori dalla porta va benissimo l'ho pagato tipo 7 euro e quindi dai, via lo spaghino per appenderlo luci trovate, ho alla fine preso questi 1000 led questi sono un 20 metri più 5 di cavo io prima avevo un 14 metri che era corto per il mio albero quindi questo in realtà dovrebbe essere perfetto anche perché in realtà la misura ancora superiore costava troppo e non volevo spendere 50 euro di luci 34,90 vanno più che bene ho preso come già vi dicevo il bianco luce calda perché quest'anno farò tutta luce calda e poi sempre dallo stesso cinese ho preso due decorazioni questa che mi faceva troppa tenerezza che è questo orso polare con le pigne, le palline, il fiocco e i rami di abete mi piaceva un sacco e poi ho preso questo qua perché qualche cosina di argentato su qualche pallina c'è e quindi mi sembrava appunto carino questo qua è il classico candy cane c'erano in realtà un sacco di cose molto carine sul rosso però appunto mi sarei disgustata troppo da quello che è il mio albero di Natale ufficialmente venerdì primo dicembre questa è la frase del calendario filosofico del giorno e ieri sera presa da una botta di coraggio ho spostato televisore aspirato il tappeto e tolto il tappeto ho spostato la mia seduta del divano quella che io chiamo chasse longue ma non è una chasse longue e lì abbiamo i calendari dell'avvento che da oggi finalmente inizieremo ad aprire ovviamente qua ci sarà l'albero poi i calendari li sposterò altrove direi di iniziare subito ad aprirli ho spingiato sul tavolino partiamo allora partirei se siete d'accordo dal calendario dell'avvento di coro ma quest'anno non ne abbiamo tanti di calendari dell'avvento l'uno è qua chissà cosa ci riserva forse erano più comode le scatolette dell'anno scorso dentro troviamo questa questa è una barretta che se non erro io ho già assaggiato passiamo sempre al calendario di coro ma versione classica l'uno ha questo giro e qua troviamo la stessa identica cosa io spero che i due calendari non siano uguali a livello di contenuto perché ho preso volutamente classico e vegano da provare ah no scusatemi sono diversi allora sembrano uguali ma sono diversi perché questo ha il gusto di frangola e arachidi anacardi scusate io però sono allergica al frangola quindi non lo posso mangiare mentre invece questo ha le nocciole salate quindi ne troviamo due diverse questo era nel calendario dell'avvento vegano e questo nel calendario dell'avvento classico meno male che ho avuto quest'occhio di... per capirci qualcosa in più comunque entrambi sono prodotti vegani al caso e vediamo il calendario dell'avvento delle tisane questo qua come già vi dicevo la marca è Regina di Fiori uno è qua io non so se voi lo vedete ora i prossimi giorni mi organizzo meglio ma stamattina sono un po' di fretta troviamo un infuso di frutti di bosco con fragola, lampone e foglie di mora oggi è la giornata mondiale della fragola anche questo qua non posso berlo magari lo porterò a qualche collega che lo berrà non chiamiamo ma non ama questi infusi qua quindi uno e uno, due li regalerò mentre questo me lo mangio io stamattina vado a rifare le unghie farò sì un qualcosa di magari un po' natalizio ma comunque molto molto neutre avevo trovato delle foto carine ora casomai ve le faccio vedere allora questa è la prima idea nel senso che è un rosa lattiginoso con un'unghia brillantinata e un'unghia che ha le ringhe tipo candy cane mentre l'altra anche simile cambia il rosa che in realtà è più un rosa malva anche se non so se dalla fotocamera si vede c'è un'unghia sempre fatta in stile candy cane e un'unghia dorata cioè le due unghie dorate quindi annulare e pollice dorati non lo so cioè in realtà mi piacerebbe fare un ibrido tra i due e quindi vediamo un pochettino cosa mi piace di più sulle mie mani fuori non c'è luce poi magari domani ve le faccio vedere meglio eccole qua le mie unghie ho fatto questo color che non è né un argento né un oro una sorta di platino due unghie come già vi dicevo in un rosa lattiginoso l'anulare fatto come il pollice e il medio in stile candy cane però molto leggero con quel color platino e delle righe bianche domani alla luce del sole ve le faccio vedere meglio perché fuori è buio e sta sta diluviando però dai sono molto carine le ho accorciate perché poi in realtà tra una settimana io le ho già lunghe e comunque poi troppo lunghe mi danno mi danno noia buongiorno sabato 2 dicembre giro la pagina del calendario filosofico non so se questo vlog ma se lo vedrete domenica o lunedì vi dico la verità ieri ho avuto una giornata più che altro ieri sera proprio dall'umore non propriamente ottimale vi dico solo che credo che sia stata ieri la prima serata che non ho avuto voglia di prendere in mano un libro quindi per farvi capire mi sono guardata la mia comfort serie tv che sto facendo la maratona di friends quindi mi sono vista tipo qualche episodio fino a mezzanotte e poi sono andata diretta a letto stamattina ho già aperto le caselline del calendario dell'avvento perché non credo ogni volta di registrare magari domani mattina se la apro cioè quando le apro vi faccio vedere le cosine che ho trovato all'interno e vi mostro tutto anche se in realtà se questo vlog dovesse uscire domenica sera io lo devo ultimare oggi perché sennò non riesco con i tempi perché la mia giornata è sempre quella e come già vi dicevo è un po' un delirio tra lavoro e cose cose da fare ma non volevo parlarvi del mio cattivo umore stamattina sono andata in centro perché in realtà dovevo fare una commissione e volevo andare anche da coin per vedere se trovavo la candela quella al camino perché in realtà io adesso ce l'ho una candela di di woodwick si dirà così che era questa qua che avevo preso scontata i saldi quest'estate e questa in realtà ha un po' l'odore di affumicato però non è l'odore di camino cioè un po' lo ricorda perché ha questo odore un po' di di bruciacchiato ma non è quella al camino quindi volevo andarmi a comprare la candela al camino anche perché in realtà di natalizia mi deve appunto arrivare il pacco di avemei che secondo me arriverà tra qualche giorno palo santo che ho lì di zara la sto centellinando perché comunque non voglio neanche sprecarla quindi sto aspettando proprio le vere proprie candele natalizie da accendermi e ecco io spererei che tra lunedì e martedì l'ordine arrivi dietro di me vedete ancora l'albero da dover montare perché in realtà in questi giorni non ho non ho avuto tempo credo di farlo se riesco lunedì martedì magari inizio a farmelo a step quindi prima montarlo poi mettere le luci poi decorarlo cioè forse per l'otto sarà pronto ecco devo fare così un po' arrangiarmi con la giornata anche oggi c'è un tempo indefinito stamattina diluviava quindi appunto vi stavo dicendo sono andata in centro volevo andare da coin ma non sono andata perché uno non c'era un posteggio due veniva un'acqua come le mele e soprattutto quando sono uscita di casa c'erano 15 gradi di botto siamo scesi a 9 col vento c'è mareggiata quindi l'ho fatto solo la commissione che dovevo fare scendendo al volo e nulla quindi rieccoci rieccoci di nuovo qua tornerò spererei nei prossimi giorni anche se ho visto che lunedì da stranamente di nuovo brutto però non è importanza devo fare assolutamente quei giri lì quindi lunedì vedrò di organizzarmi diversamente per tempo stamattina sono un po' così coi tempi ne ho profittato per rifarmi il letto che me lo sono già cambiata stasera devo fare mille lavatrici perché ieri sera andonevo voglia l'altra sera ho detto vabbè non è ancora tanto piena mi sono ridotta al punto di dover fare la lavatrice nera la lavatrice del plaid della vestaglia e delle federe dei cuscini perché così mi metto quelle pelusciose che avevo e la lavatrice bianca quindi tutto tutto da fare tra stasera e domani mattina ma ce la faremo voglio anche approfittare dato che qua e forse no di qua mi sono rimaste tre spazi vuoti per andare a mettere le mie capsuline di nespresso queste festive quindi questa alle spezie poi abbiamo questa con le nocciole caramellate direi questo espresso festivo quindi qua poi mi rimangono gli altri classici ancora questi due di starbucks da provare vaniglia e caramello che mi avevano inviato e poi vabbè la nocciola al momento non non l'apro ed eccole qua mi diverto un sacco ogni volta metterle in questo modo perché secondo me fa super carino vedere poi tutto colorato allora per una mia cosa personale qua ci sono un mix di capsule diverse queste qua è il deca quello di lore perché non ho quello di nespresso però mi piace un sacco quindi qua abbiamo i nostri caffè festivi e poi c'è quello alla zucca all'ultimo che mi è rimasto di quelli aperti alla alla nocciola quindi angolo caffè sistemato nel calendario dell'avvento di oggi abbiamo trovato queste ciliegie essiccate questo muesli con mix di semi che utilizzerò per lo yogurt perché almeno è parte che ci mangio in due volte perché sono 40 grammi e come tisana questa che mi mi ispira un sacco è anzi scusatemi è un tè nero alla vaniglia e melograno quindi questo qua prossimi giorni che il pomeriggio sono a casa me lo provo subito ho iniziato a mettere le primissime decorazioni diciamo lato divano ho cambiato le federe come avete visto ho messo quelle più pelusciose e quelle diciamo relative al periodo del Natale le avevo presa l'anno scorso sul sito di Shein e poi ho messo questa ghirlanda che ormai mi fa compagnia da ghirlanda luminosa fatta con tutte le palline l'avevo presa da Primark tipo sei anni fa una roba del genere quando ero andata ad Arese sicuramente lì quella candelina la toglierò però qua in realtà poi rimarrà tutto abbastanza semplice nel senso che le decorazioni che ho le metterò prettamente dall'altra parte dopo essermi creata un po' di atmosfera lì c'è il pc che sono pronta ad editarvi il video mi sono accesa questo finto cammino su Netflix e quindi mi metto a editare questo primo vlogmas spero di avervi tenuto compagnia ci vediamo in settimana con un nuovo video ciao ciao